comunque ha detto pure Marco dai 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 giù ma che ne restiamo qui? è quattro quanti ne è matti più che altro? non lo so adesso vediamo il fondo Adriano sta in esperienza tanto prima o poi se finisce vai adesso adesso vogliate finire io voglio giù e girare e vengono su avanti in coso avanti non si fa cacchare si adesso te rispondo aspetta un'attima ma ti risettacolo vedi c'è fuoco vediamo poi via un altro ascio vai vai pure grazie 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 a tutti grazie a tutti